Che l'acqua dei Lucani fosse sicura lo aveva già rivelato un'inchiesta di alto consumo, ma che lo fosse già a partire dalla fonte, lo hanno confermato i dirigenti di Acquedotto Lucano. Circa il 90% dell'acqua è messa in rete, infatti, proviene direttamente dalle sorgenti. Il rimanente 10% deriva dagli invasi dislocati sul territorio e viene distribuito solo dopo aver subito una serie di analisi che ne attestino la potabilità, elemento che rappresenta il primo passo per avviarne la diffusione. Insomma, si tratta di un controllo continuo e quotidiano, orientato a garantire il massimo della sicurezza prima che arrivi sulle nostre tavole. Anche per questo l'Acquedotto Lucano ha istituito l'ufficio di vigilanza egenica, diretto dalla dottoressa Rosanna Brienza, che esegue tutto il percorso dell'acqua, a cominciare dal prelievo, passando per analisi di laboratorio, fino ad arrivare nelle reti idriche e poi ai nostri rubinitti. Questi controlli eseguiti. Allora, vengono effettuate una serie di analisi chimiche e analisi microbiologiche. In tutto, saranno una quarantina di parametri tra chimici e microbiologici. Soltanto dopo aver eseguito queste analisi, aver avuto i risultati ed emesso un referto di potabilità, l'acqua viene distribuita. Una garanzia di qualità che viene confermata anche dal dirigente di Acquedotto Lucano, Gerardo Enrico Marotta, che durante un incontro con la stampa non solo ne ha elogiato la bontà, ma ha anche precisato la presenza nei laboratori di elevate professionalità che eseguono analisi incrociate e che non procedono alle emissioni in rete se non ne viene certificata la purezza. Tutte le attività che svolge il servizio di vigilanza igienica sono tali per cui i cittadini possono essere tranquilli che l'acqua che bevono è acqua di qualità. Nei prossimi giorni andremo a fare dei prelievi presso le scuole, presso gli uffici pubblici, proprio perché siamo certi della bontà dell'acqua che distribuiamo.